Da mesi come Verdi diciamo a questo governo di chiedere la sospensione dei brevetti. Non sospenderli è un atto immorale nei confronti di tutte le popolazioni del mondo perché le case farmaceutiche hanno realizzato profitti miliardari avendo tra l'altro anche i sonvenzionamenti pubblici. L'Europa ha dato diversi miliardi di euro, i da negli Stati Uniti d'America. Ci auguriamo che il governo italiano cambi posizioni e i brevetti vengono sospensi per garantire vaccini a tutti quanti a partire dai paesi poveri. Crede che questa apertura da parte degli Stati Uniti possa però effettivamente concretizzarsi in tutta Europa? Perché comunque la Merkel sembrerebbe contraria. Il cambio di posizione degli Stati Uniti d'America è un fatto estremamente importante. Devo dire che arriva un po' tardi, anche un po' sospetto, dopo che gli Stati Uniti d'America hanno realizzato una grande campagna di vaccinazione. Però, come si dice, è meglio adesso che mai. Detto questo, la posizione della Germania è assolutamente incomprensibile. Sospendere i brevetti, lo ribadiamo, è un atto di civiltà. È un atto etico nei confronti delle popolazioni che in questo momento stanno aspettando i vaccini. Non sospenderli è un fatto di una gravità inaudita. Devo dire che non ci è piaciuta la posizione del governo italiano che al WTO ha votato contro la posizione dell'India, in particolar modo che chiedeva la sospensione dei brevetti. Speriamo che oggi ci sia un fatto estremamente positivo, non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. Il mondo chiede vaccini e chiede tutela delle salavute, non chiede profitti per le case farmaceutiche.